In corso le operazioni di smontaggio delle travi del vecchio impalcato lungo la statale contessa attualmente chiusa per lavori 6 milioni di euro per l'intervento sul viadotto. Le immagini sono relative alla terza fase. La prima ha riguardato la rimozione della pavimentazione, a seguire è stata avviata la demolizione delle solette. Quindi completata questa attività sulle prime tre campate lato Marche è stato possibile avviare lo smontaggio delle travi che vengono tagliate e rimosse con speciali mezzi meccanici. Contemporaneamente prosegue la demolizione delle solette sulle altre campate ed è in corso anche l'idro demolizione superficiale delle spalle e delle pile che saranno risanate e rinforzate. Entro il mese di luglio l'impalcato esistente sarà completamente demolito e sarà quindi avviata la fase di costruzione del nuovo impalcato in acciaio. In parallelo sono ripresi anche i lavori di ripristino strutturale idraulico della galleria adiacente per un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro dove resta da realizzare la parte strutturale che deve essere eseguita in assenza totale di traffico. I lavori rientrano nell'ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 della Contessa avviato da ANAS a partire dal 2019 in seguito alla presa in gestione dell'infrastruttura ex regionale.